E allora, eravamo pronti a celebrare un altro passo falso da parte della Juventus, avevo già scritto che io preferisco vincere male 1-0 in casa con Lecce piuttosto che pareggiare giocando bene col Verona, ma per una volta è arrivato a noi il gol all'ultimo secondo che poi sono quelli più belli, quelli per i quali si gode di più. E sono convinto anche che forse hanno goduto anche quelli juventini che odiano la Juve, quelli che non vedeva già lì, che twittavano, che schifo, vergogna, capra. Tra l'altro li saluto perché so che mi seguono sempre con molta attenzione su tutti i miei profili, su tutti i miei canali. E invece è andata bene, è andata bene, la Juve torna al primo posto, ovviamente un primo posto temporaneo che però fa bene al morale. Una Juve, io oserei dire la migliore della stagione, certo, contro il Verona in casa è molto più facile fare una grande partita piuttosto che farla a Milano, col Milano o la prossima settimana a Firenze con la Fiorentina. Ma intanto si è vista una partita nella quale ci sono state una decina di occasioni piuttosto nitide, tre gol, due annullati. Si discuterà sicuramente di questi gol annullati, ne voglio discutere anche io, però è una squadra che stasera ha giocato bene. Cioè fa quasi strano dirlo, la Juve ha giocato bene, è una cosa che capita raramente ma quando capita dobbiamo dirlo. I giocatori hanno disputato tutti un'ottima prestazione a parte Vlaovic. Ecco, Vlaovic in questo momento è un problema perché con un Ken che in questo stato di forma rinunciare a Ken, perché poi comunque Chiesa è un giocatore che deve trovare una collocazione, giocare in questo modo qui con Vlaovic titolare è sicuramente un handicap per la Juve in questo momento. Oggi Vlaovic irritante ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, l'unica insufficienza, ripeto, in una partita in cui nel primo tempo tra l'altro ha giocato bene anche UEA. Si era visto chiaramente però che in fase difensiva c'erano dei problemi, quindi Allegri si è voluto cautelare con una sostituzione. Bene Miretti, Miretti è entrato e al di là di un paio di errori però ha davvero dato un imprinting importante al centrocampo della Juve perché gli ha dato molta verticalità. Chiesa ha creato delle occasioni da gol, Milik comunque protagonista poi in occasione del gol e ripeto, tante occasioni. Se io avevo già pronto il commento, come dire, alla fine ho dato tutti i voti positivi in pagella, tranne quello di Vlaovic, nonostante non si sia vinto. E avrei fatto fatica a giustificarla questa cosa perché in genere se pareggi in casa col Verona le insufficienze dovrebbero fioccare. Ma a chi dare insufficienze in una partita del genere? Per fortuna è arrivato il gol all'ultimo istante quindi mi sono salvato anch'io con le mie pagelle perché sarei stato in difficoltà a giustificarle. Migliore in campo per quanto mi riguarda Locatelli. Chissà che, come dicevo la settimana scorsa, questo gol contro il Milan abbia chiuso un po' il cerchio e quindi ci abbia restituito un Locatelli finalmente leader del centrocampo. Ah no, probabilmente ho ritenuto insufficiente anche Rabiot. Adesso la mia memoria, come sempre, mi lascia un po' a piede adesso che scorrono le immagini, lo verifichiamo. Bene tutta la difesa, anche se la partita non è stata particolarmente impegnativa, però una difesa provvisoria, una difesa senza alcuni titolari che però ha fatto molto bene. Sì, anche Rabiot assolutamente insufficiente. Cosa vogliamo aggiungere a questo? Vogliamo aggiungere che a me sembra che Allegri abbia trovato la quadratura del cerchio per questa squadra e l'abbia fatto in anticipo rispetto ai suoi tempi. Una squadra che resta non fortissima ma molto compatta e mi sembra ci sia una crescita, anche qui lo dico sempre col massimo rispetto di chi tifa Juve ma vuole sempre vedere le cose negative della Juve. Peccato per il gol che non è riuscito a realizzare Ildiz, sarebbe stato un gran bel gol, a parte per l'azione, chissà, non credo fosse in fuorigioco, però va bene. Ci saranno altre occasioni. Trovo triste il modo in cui hanno ridotto il calcio, poi ci chiediamo perché i ragazzini si allontrano dal calcio. Ma come glielo spiega un bambino che ha annullato un gol per l'unghia di Ken che sporgeva, che era in fuorigioco, che era oltre la linea dopo che aveva fatto quel gol meraviglioso. Come glielo spiega un bambino che di nuovo Ken ha fatto un gol, l'arbitro era lì, perché l'arbitro era lì, l'ha valutato lui il fallo. Poi c'è, c'è il fallo come c'è il fuorigioco, ma l'hai valutato. Boh, l'azione è andata avanti, è durata altri 5 secondi, basta, è gol, stop. E invece no, avete voluto un calcio in cui poi ogni azione, c'è voluto meno tempo a giudicare fuorigioco il gol con l'unghia in fuorigioco della Juve, piuttosto che quel presunto fallo di mano di Weah in area di rigore, che l'ha presa a velocità normale, si vedeva che era, che l'ha presa di spalla, di petto addirittura. Sono stati lì a guardarla per due minuti. Questo è il calcio che avete voluto ed è una roba veramente vergognosa. Al di là di questo, per me è stato sbagliato sostituire Ken, anche se era nervoso, comunque sia, era sicuramente più utile di Vlaovic. Arbitraggio pessimo, basti dire che ci sono stati due calci d'angolo evidenti che non sono stati dati alla Juve, però io li capisco, li giustifico, perché comunque c'è un tale nervosismo, una tale tensione, una tale attenzione per ogni cosa che succede quando gioca la Juve, per cui è molto più facile sbagliare, quindi mi sento di giustificare l'arbitro. Speriamo a questo punto che di passare una settimana serena e che la Juve possa andare a Firenze a giocare una buona partita, perché se la Juve dovesse uscire vittoriosa da Firenze, vorrebbe dire che abbiamo finalmente trovato una squadra che può raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. E intanto ti chiedo cortesemente di iscriverti al canale, attivare la campanella, mettere mi piace, commentare se non sei d'accordo con qualcosa, con i voti, con quello che ho detto, e gli obiettivi della Juve quali sono? Gli obiettivi della Juve devono continuare ad essere sempre gli stessi, cioè cercare di vincere ogni partita, essere lì vicini alle squadre più forti, soprattutto l'Inter che ha una squadra nettamente più forte della Juve così come ce l'ha il Napoli. E poi si vedrà, perché comunque da questo punto di vista non giocare le coppe è un vantaggio, cioè non giocare le coppe non è un vantaggio in termini assoluti, perché chiaramente se non sei all'altezza non sei all'altezza, ma se sei lì, se sei lì che te la giochi, se resti incollato alle migliori, allora sì che puoi sognare, o comunque raggiungere l'obiettivo, perché entrare in Champions quest'anno è un obbligo, perché poi l'anno prossimo i giochi cambiano, intanto già a gennaio sono previsti degli acquisti, e con una squadra che trova continuità, una squadra che riesce a integrare anche i giovani e anche i giocatori meno talentuosi, come Gatti ad esempio, è una squadra che è poi rinforzata con 2-3 giocatori di qualità, o magari 4-5 nel corso di un paio di stagioni, può finalmente tornare ad essere la squadra più forte del campionato. Ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie!